Sono accorse ben due ambulanze questa mattina in una calle del centro storico di Chioggia per soccorrere una persona piuttosto pesante di oltre 100 chili che cadendo dalla propria abitazione si era fratturata a un femore. Grosso lavoro per gli infermieri anche se non si è reso necessario il supporto dei vigili del fuoco che in altre circostanze del genere avevano messo a disposizione la propria attrezzatura speciale per consentire ai pazienti di uscire di casa.